Spesso quando questi danni sono lievi, diamo loro il nome di emozione. Ma quando si tratta di danni gravi, il loro nome è dipendenza. Rimuovere il danno, scombrare la mente, questo è il potere. Noi non ti maldifichiamo il cervello, noi ti restituiamo il tuo cervello. Ma vai il tuo cervello! Pisturi! Tu, andando a celebrare ventromediale, tu, perseveri nell'errore, oh che orrore. Tu non ricevi il segnale somato sensoriale della punizione. Hai un comportamento inappropriato, tu verrai operata. Latterare, immaginare, associale, aiutando, preguitare, ventromediale, uomo d'onore, oh il gran signore, di queste cose nuore. Tu non ricevi il segnale, ventromediale, temporale, viscerale, razionale. Oh, s-s-s. You son of a bitch! I'm so sorry! Come on! Come on! Bravo! 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 Questa è la persona Virginie, eh? Right? Atletica, eh? Atletica, go, 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 go. Come on. Hey, oh, woo! Ma, attenzione, eh? Virginie non è più Olimpia, eh? Ricordate Olimpia? Olimpia era prigioniere del suo corpo. Olimpia, a scambia! Marina. No, American Express. Centro Medico Buongiorno, sì, è il studio del Dottor Rossi. Un appuntamento? Venerdì, alle 15.50. Assegnato, grazie, rivederci. Centro Medico Buongiorno, salve, non solo salve, Arrivederci. Vuole poi farlo qui in maniera del controllo? Giorno di pomeriggio fisica. Centro Medico Buongiorno. Centro Medico Buongiorno. Centro Medico Buongiorno. Buzie! Una sciarpa di seta rosa. Bella. 754972. Scadenza 1013. Centromedico, buongiorno. Centromedico, buongiorno. Che non ha ragione? 754972. Quiffletcher, cani? Perfetto! Scadenza 1011. Scadenza 1019. Scadenza 1015. Scadenza 1014. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E io, mi portate con Roberto. Grazie a tutti. 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 Magari lavori troppo, magari credi troppo in quello che fai. Ti ricordi? Monica? Monica? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.